Assessore dei trasporti Gian Donato Morra, si incassa il via libera per i treni della Sangritana che possono arrivare fino a Bologna e quindi si aggiungono collegamenti importanti verso uno degli snodi ferroviari più importanti d'Europa. Certo, questa è una notizia positiva, sono anni che il Presidente Di Nardi e io stiamo portando avanti questa battaglia per una nuova linea per la Sangritana sulla linea adriatica che comunque ha bisogno sia di velocizzazione ma ha bisogno anche di più linee abruzzesi. Questa linea finalmente, io dico con ritardo, c'è stata concessa sempre da RFI però ora c'è stata questa concessione. Ora vanno sviluppati gli ultimi adempimenti tecnici perché questa fra pochi mesi possa essere operativa. Naturalmente è un fiore all'occhiello dall'Abruzzo perché i nostri studenti, i nostri lavoratori possono raggiungere Bologna direttamente con un treno abruzzese e naturalmente la Sangritana ha le qualità e ha l'intelligenza per proporre forme di abbonamenti, forme di incentivo che siano veramente poi la sintesi fra le richieste del territorio e le aziende regionali. Questa cosa potrebbe essere gestita molto bene e potrebbe portare vantaggi comunque. Lei ha parlato di aziende regionali plurale, un plurale che potrebbe terminare di qui a poco con la riforma del settore dei trasporti. Guardi, noi stiamo ancora andando avanti con questa riforma ma con tutte le difficoltà di cui si parla sempre, il cambio normativo, la ristrutturazione dei servizi, i mancati finanziamenti da parte del governo e le problematiche così. Però noi abbiamo fatto una scelta di fare una riforma tecnica, di non farci prendere dalle fregole delle riforme politiche perché abbiamo visto che Umbria e Mobilità, che è stata praticamente una riforma esclusivamente politica, è sull'orlo del fallimento ed in questo momento sembra che verrà acquisita la maggioranza di Umbria e Mobilità da un competitor privato, quindi il contrario di quello che vogliamo fare noi. Noi dobbiamo sistemare l'ultima fase che è quella del patto di produttura con i sindacati. Si riprenderà direttamente in fine mese a provvedere il presidente Chiodi, ha avvocato a sé anche la convocazione di questi incontri. Si deve continuare su questa falsariga. Forse quando arriveremo sarà una riforma fatta con tempi lunghi ma probabilmente che calerà definitivamente il rilancio delle società abruzzese aperta a quello che sarà il nuovo futuro delle gare e poi anche dell'efficientamento e della razionalizzazione delle stesse. Però ripeto, è un percorso difficile, immaginate a farlo con i fondi che vengono meno e con le norme su trasporti che vengono cambiate una volta all'anno. Non è facile questo momento dei trasporti a livello nazionale.